per me abbiamo questo visto bene se è passato tutto il fatto di un'eperro che potrebbe essere un po' di un'eperro che è un'eperro venuti a raccontare la cosa e non tutti gli aperti come volete che la vedi? e che belli più sono tutti se si mette la vena la vedi? è un problema prima l'alpe la mera capito? la mera la volga hai visto come la risolva? si aspettavo a loro che sia meglio le metti la più liberata le metti i campi in Europa guardarai che è mia qui in Europa in Europa no però in montagna me lo viste spiegami se in Europa non si usano più perchè noi in Italia non manca metti e poi con le muciche li guardarai? noi davanti ho messo qui paghiamo le muciche nella funzione europea non so se c'è la parte criminale in grado nel 1940 non si si sono qui in biceo che dice Il problema del cavalcavia è noto, tutti i residenti sono contrari alla condizione di questo cavalcavia, è uno spreco in ultimi di soldi, denaro pubblico soprattutto. Adesso che è costruito, è stato voluto dall'aggiunto precedente, abbiamo avuto dei problemi con la pista ciclabile. La pista ciclabile abbiamo già avvisato sia l'ingegner Pagliarini che gli organi preposti del comune, appunto mettendo in evidenza la pericolosità della pista ciclabile per la presenza di questi spuntoni in ferro, che sono molto pericolosi per i ciclisti che hanno degli sbandamenti o comunque possibili cadute, possono provocare una tragedia e quindi proprio stamattina abbiamo, sentendo il comune, abbiamo chiesto di aprirsi la strada ma non la pista ciclabile perché diversamente saremmo intervenuti presso le autorità preposte per farla chiudere. In effetti non l'hanno aperta e hanno tenuto conto delle nostre osservazioni. Adesso aspettiamo che la sistemino e speriamo che nel frattempo mantengano aperta il passaggio livello per dar modo alle biciclette di poter accedere alla pista ciclabile.